Ciao ragazzi, io sono VivoLibero e vi do il benvenuto sul mio canale. Ragazzi, stavolta siamo su Raft, su Vive One. È un gioco simile a Ocean Nomad, ma non c'entra un cacchio con Ocean Nomad. Allora, Ocean Nomad, ragazzi, io non ve lo porto più perché ho riscontrato troppi bug, uno. Due, sono arrivato a un certo punto e ero completamente bloccato. Quindi ho perfino provato a spendere altri dobloni per andare su una di quelle isole che avevamo visto, però i dobloni me li ha presi, me li ha spesi, ma l'isola non l'ho ancora vista adesso. Quindi non ho capito che cosa è successo. Allora ho deciso di provare a portarvi questo Raft, che non è la versione Raft originale, eccetera. È un altro tipo di versione. Sembra un po' più carina, però andiamo a vedere. Vediamo un attimino com'è questo Raft. Se, ragazzi, riesco a portarvelo. È già la quarta volta che sto facendo questo video, ma vediamo un attimino. Ok? Ok. New Game. Proviamo. Qua siamo su una sorta di mezzo. I nostri occhi si stanno piano piano aprendo, come potete vedere. Air Force U dovrebbe essere un aereo, perché, sì, esatto, un aereo. Allora, noi siamo qua, ci guardiamo, c'è un po' di gente. Non c'è tantissima gente su sta aereo, eh. Qua c'è un bambino. Non c'è la nostra moglie. Scusi? Scusi? Scusate? Avete visto mia moglie? Avete visto una signora? La mamma di questo piccolo, di questo bambino, di questo figlio, che non so se è mio? No? No, no, niente? Almeno un piccolo risposta, no? È incesso, dov'è? Ok, va bene. Muoviamo un attimo questo bambino, che mi sembra morto, ma bimbino, 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 ok. È morto adesso, forse. Bimbo, ok. Dormi, che te devo dire. State loghe te. Che sta a succedere? Allacciamo le cinturazze, subito, in media. Apriamo qua. Oh, oh. Un po' di fumo. Ops. Bimbo. Bimino. Bebere. Bebere. Che sta succedendo? Mazza che botta. Mi sono fatto male. Ai, 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 ai. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No, ah, 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 ah. No. Ah, sta morendo, aiuta! Ah, che botto, me sono sbottato, ho sbottato ragazzi, ho sbottato! Mazza, che umano, capitano uncino, quanta porcheria che c'è dentro sto mare, ma è... sono capitato nel mare più guidato del mondo, allora, incominciamo ragazzi a prendere un po' di risorsette, visto che c'è tutto sto schifo, ah sì, non mi scapperete, botte tu sarai mia, uh uh uh, c'è un'altra botta che ci sta scappando, sbrigati! Ok, botte, tu vieni qua, oh sì, che sei mia, sì, che sei mia! Sei tutta mia! Perfetto! Beh, un po' più sulle vicinanze, no? Non c'è una schifezzuola! Allora, ragazzi, siamo praticamente messi su una piccola zattera, più che piccola zattera mi sembra un po' un pezzo di legno, ma va bene lo stesso! Incominciamo a prenderci un po' di risorsette, così vediamo di iniziare a craftarci per lo più qualche... Allora, prima di tutto, ragazzi, dobbiamo craftarci il martello Ok Queste le dobbiamo prendere Tu, Cassa, sei mia Subito, immediatamente Via nei quecatera un po' Via nei quecatera un po' Via nei quecatera un po' Perfetto! Oh 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 oh, c'è qualcosa lì Cos'è quello? Cos'è? 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 Cos'è quello? Cos'è? Vediamo cos'è? Peppino di Capri, abbiamo sbloccato un po' di roba Secchio E' una sorta di bicchiere, di latta, di... Possiamo craftarlo? Si Craftiamocelo subito Questo? Non ce lo possiamo craftare Mercoledì Mercoledì Perfetto! Andiamo a prendere queste assi qui Perfetto! Ah si, quelle le... Mi ho... Prese! Prese! Vediamo un attimino adesso se riusciamo a craftarci qualche costuccia Uh... Mia, mia Roba mia Roba mua Ah, mua Perfetto! Perfetto! Perfetto un cazzo, perché non c'è più niente Vediamo se riesco a prendere quello pistolono là Non ce la farò mai, ma neanche se piangiamo in cedere Andiamo a craftarci il secchellino Ce lo facciamo! Non abbiamo più niente però Oh, oh, oh Mercoledì 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 No! Ho sbagliato tutto Allora, vediamo un po' Vediamo un po' Oh! Perfetto! Perfetto! Un po' di legnazza Un po' di schifezzuola Vieni qua! La botte deve essere io Tu sei mia! Vieni qui! Allora Allora, allora, allora Vediamo un attimino cosa abbiamo preso Tu? Ce la farei Presa al volo proprio Ok Allora, vediamo ragazzi Se possiamo Se possiamo Se possiamo Se possiamo Cattarci Che Che esce? Ma no! Ma ci saranno le cordene! Allora, facciamo le corde Quante le possiamo fare? Facciamone 39 Ok E Mala santo Ok Incominciamo a farci Ragazzi delle pedane Una Perfetto Qua come sempre Deve cliccare Proprio nel momento Che Non me... Eh minchia! Una sola ne abbiamo fatta Eh... Va bene Ok Andiamo a prendere quella cassa là Oh! Non ci sto arravata Non ci sto arravata Proviamo a vedere se possiamo Eh... Sì Una E due Almeno due le abbiamo Ok Perfetto Perfetto Allora due E incominciamo Ragazzi No! Ho sbagliato tutto E incominciamo E incominciamo a fare così Clicchiamo E mettiamo Una qua Perfetto Ok Ok Allora Ehm... Ne abbiamo tre Per tre Allora Tre per tre Ragazzi Io quasi quasi L'allargherei ancora un attimino Eh... Ok Ok Io l'allargherei ancora un attimino Ehm... 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 Per cambiare l'attrezzo Non ho capito perché me lo fa Ehm... Ehm... Io spero che Non mi crei dei problemi Durante l'editing Perché Se no Non lo so Non so ragazzi Non so più cosa fare Ehm... Davvero non so più cosa Cosa portarvi Cioè Arrivo a un certo punto che Bestemmierò ancora un po' E cercherò qualcos'altro Allora Intanto Facciamo così Non si può Mancano le corde però Quindi andiamo a farci le nostre cordine Ok Una E due Perfetto Così E facciamo Ok Allora Ragazzi Io direi di fare una cosuccia Ehm... Incominciamo intanto A prendere Questa che è nostra Andiamo Ehm... Ehm... Andiamo a fare così E una cosa che dobbiamo fare È questa E io direi ragazzi Di andare a metterla Qui Che questa ci deve servire Poi Clicchiamo di nuovo E andiamo a mettere Questa Che è quella ragazzi Che ci serve Per... Per... Ehm... Cucinare Il nostro cibo Ehm... 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 Andiamo a vedere un attimo una cosa Nell'inventario Nell'inventario Non abbiamo un cacchio Abbiamo... Sì Abbiamo delle patate Abbiamo del legno Allora Incominciamo a fare così Patata qua Legno qua Ehm... Ehm... Abbiamo da andare A mettere A mettere A mettere Il... Ehm... Legno Qua Così E la patata E lui parte Abbiamo da andare a mettere Il... Legno Ragazzi Ehm... Abbiamo Da prendere Il... Ehm... Secchio Dobbiamo andare qua E prendere dell'acqua Molto bene La buttiamo qua dentro E li si riempie Perfetto Adesso ci giriamo da questa parte ragazzi E prendiamo Questa latta E la mettiamo qui E lui parte Automaticamente E ci produrrà L'acqua Andiamo qua Raccogliamo la nostra patata cotta Mettiamo Una cacca puzzolente Mettiamo La nostra patata Ehm... Mettiamo In fondo Ehm... La nostra legna E lui vi parte Ok? Questo ragazzi E' una cosa che a noi Ehm... A noi serve tantissimo sta cosa eh Perché... Ehm... Ci produrrà come potete vedere Ha già anche... Ha già anche... Non ci arrivo Come potete vedere L'ha già cotta Mettiamo di nuovo la nostra patata Ehm... E siamo a posto Ok? Ehm... Adesso io vi faccio vedere una cosa Quanto ci carica la patata Ok? Con due patate abbiamo tutto pieno Avete visto? Adesso... Adesso... Dobbiamo andare a prendere la nostra acqua Vediamoci questa Perfetto Ehm... E rimettiamo... Qua il tutto Prendiamo gli assi Ci servono Perfetto E andiamo a prendere il nostro secchio Questo Riempiamo di nuovo Mettiamo di nuovo l'acqua qua dentro Purtroppo è lunga così Però... Ehm... 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 E ci serve la nostra legna Perfetto Perfetto E là Per adesso ne abbiamo un po' di acqua Ehm... Dobbiamo farci un altro martello Perché quello la si è praticamente rotto E quindi dobbiamo per forza fare un altro martello Ehm... Tu qua ti stai avvicinando il segno Perfetto Perfetto Ok... Allora... Ehm... Però adesso ragazzi Dobbiamo anche bere Ehm... Vediamo... Vediamo un po' Beviamo qua dai Perché se no... Vediamo anche quanto ci disseta E insomma... Diciamo che con tre bicchieri d'acqua si impiede Ehm... Molto bene Allora... Una cosa che dovremmo andare poi a fare E andare a craftare delle altre cose Andiamo a vedere Allora... Abbiamo da craftare La... Ehm... Canna da pesca Ma noi ce l'abbiamo già? L'avevamo già craft... No... Non l'abbiamo craftata Allora... Chiudiamo E ci craftiamo La canna da pesca Perfetto Perfetto Poi... Ci craftiamo La lancia che ci serve Per forza E ci craftiamo questa Che a noi serve Poi ci dobbiamo craftare anche questo di nuovo Perché eh... Ragazzi... Non abbiamo più martello Allora... Inventario 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 abbiamo da mettere Allora... La... La... La lancia La mettiamo qua Poi... Abbiamo da mettere questa La mettiamo qua Ehm... 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 Abbiamo... Abbiamo da mettere poi Ehm... Il cibo Ehm... E lo mettiamo qua E lo mettiamo qua E questo lo mettiamo qua Ehm... Ehm... La canna da pesca ragazzi Io non lo so Ehm... Ehm... Io non... Vediamo qua Vediamo qua Ehm... Ehm... Ci cuciniamo Ehm... 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 Ok... Dobbiamo arrivare qua Ci dobbiamo fare anche questo Allora... Vediamo se possiamo farlo Il sgancio Sì lo possiamo fare La corda ce l'abbiamo Quindi possiamo anche Ehm... 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 Ragazzi abbiamo un altro gancio Che poi sostituirà Questo qui Ehm... Molto bene Vediamo un attimino Cosa possiamo fare Con questa Ok... Mi ha preso Ehm... Di nuovo tutto L'ambaradano Possiamo Di nuovo Facciamo così Ehm... Ehm... Ragazzi clicchiamo Me la devo per forza Ricraccare Eh... Me la devo Ricraftare Ehm... Ok Allora Per fare una bella cosa Vediamo Ecco non possiamo più Comunque perché non abbiamo Materiale Ehm... Ma andrò a prenderlo Ragazzi Farò un Un po' di Risorse Ehm... Incominceremo Ragazzi A craftarci Un po' di cosucce Ehm... Perché Esatto Quindi possiamo Farci anche La nostra cassa Che è veramente Gigantesca Ragazzi Ehm... Gigantesca Adesso ve la faccio Anche vedere Ehm... Allora Perché intanto La dobbiamo Craftare Quindi Facciamo così Prendiamo qua E sì Una la possiamo Craftare Ragazzi Io direi Che Ehm... Io direi che La possiamo mettere qua Ok Andando vicino La possiamo Ok Possiamo cliccarci su Ehm... Come potete vedere Come potete vedere E io li metterei Praticamente Mh... Quelle risorse Che a noi Non servono Anche Ad esempio Le corde Le possiamo mettere qua Ehm... Ehm... Una cosa che volevo provare Ragazzi E' questa qua Ehm... 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 Martello Ehm... Ehm... Poi per ritornare al gancio Non me lo fa Non me lo fa Ehm... 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 Ragazzi io non so Non so cosa dire Ok Allora Incominciamo intanto A fare un'altra coscia Posiamo anche queste noci di cocco qua Perché Mi hai rotto un po' le pallottole Questo non so cos'è Ehm... Ci siamo Ok Posiamo anche questo Credo che siano Dei semi Dovrebbero essere dei semi Ok Qua ci siamo E anche questi sono semi Posiamoli qua Ok Bene Ehm... Allora ragazzi che dire Ehm... Per adesso possiamo magari fermarci qua Ok Ehm... Ehm... Ci fermiamo qua Io mi porto avanti leggermente Spero di riuscire A... Ehm... Fare qualcosina Intanto mi piacerà un po' di cose Ehm... 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 Ok Ragazzi Ehm... Facciamo così Ok Un grosso bacione Un grosso braccio da vivo libero Mi raccomando ragazzi Condividete Ehm... Tanti bei like sotto i miei video E aiutatemi a portare avanti questo canale Ok Ciao ragazzi Ci vediamo alla prossima Ehm... 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 Ehm...